Sono entrata a Maronia e Pisa.it come prima facciamo una carrellata è giusto o si? Bene che compi noi italiani guardate il camminamento questa è la famosa porta della cattedrale questo è lavorato in Tisano il prato e ora presenta di fronte l'oripendente si muove uno scorso lassù ora non so perchè cerchiamo di la piazza è grandissima la piazza dei miracoli siamo quasi la piazza di Piazza è una piazza che è sempre che sia nata come per magia per un miracolo una soffatta bellezza la rondine Pisa vi fa visitare in anteprima se venite a visitare la Toscana e la rondine fissa vedrete questo ecco alla punta di mia mano ma non solo qui solo questo ecco un secondo qui tutti i giorni eccola veramente pendente in maniera impressionante guardate la base e e e e e Questa è l'entrata, è stata di recente ristrutturata, come vedete è pulita, rimessa a nuovo da Pisani, il giaiello di famiglia, l'assola sotto alla base, è iniziata a costruire il terreno, iniziò a cedere, furono interrotti i lavori e ripresi successivamente. C'è la fila per andare a vedere la torre. E' una cosa da fare un'altra volta. E' una cosa da fare, è una cosa da fare, è una cosa da fare, è una cosa da fare. Guardate che bello, a Rondine Pisa vi saluto da questa bellissima visuale della torre, ciao a tutti, a rondinepisa.it, toscana in libertà, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!